buonasera 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 allora chi mi chiede ma quando arriverà intanto ho già spiegato perché non vengono annunciati perché si annuncia sempre dopo perché ci sono le questioni della borsa eccetera eccetera perché la juve è una spa è una società quotata in borsa ok a chi mi chiede quando arriveranno Pogba e Di Maria rispondo candidamente la roba di oggi che io sono stato preallertato di andare a Torino venerdì sabato e domenica domenica ci sono tutti venerdì e sabato o probabilmente solo sabato insomma comunque succederà qualche cosa tra venerdì e domenica domenica sicuramente perché ci sono tutti i giocatori al netto della campagna acquisti quindi domenica ci saranno per esempio ci sarà ad esempio che delict se non succede qualcosa in questi giorni ma dubito che succeda qualche cosa non credo che possa esserci Zaniolo adesso al di là di tutto poi ne parliamo di Zaniolo questo per prevenire magari qualche domanda ecco perché non è detta che Zaniolo arrivi alla Juventus eh attenzione perché cioè adesso non si dia nulla per scontato c'è una trattativa eccetera 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 però insomma diciamo che tra venerdì e domenica un paio di facce nuove o meglio una nuova e l'altra di ritorno alla alla continassa ci saranno continassa j medical eccetera eccetera quindi per probà tutti i dettagli sono stati definiti per Di Maria i dettagli si stanno definendo però insomma partiranno con i lavori assieme al resto della squadra lunedì undici faranno il primo allenamento quando ci sarà anche Allegri che non c'era eh ieri non ci sarà a quanto risulta per tutta la settimana dovrebbe cominciare anche lui con il resto del gruppo quindi in questi giorni la squadra è affidata a membri dello staff del tecnico ehm che evidentemente aveva ehm bisogno la settimana in più per i fatti suoi non lo so e e dopodiché insomma la Juventus entrerà nel vivo Viocci è nato prima a Niccolò Zagnolo oggi c'è stato il eh raduno della Roma eh eh a Trigoria eh lui si è presentato giustamente regolarmente lui è un tesserato tra Roma a tutti gli effetti ci mancherebbe altro e ehm però le cronache riportano che lui sarebbe sottratto ehm al rito dei degli autografi e dei selfie con i tifosi eh è chiaro che un comportamento di questo genere in un contesto di voci di mercato sempre più pressanti non fa altro che eh alimentare queste voci no eh è normale e credo che se lui effettivamente si è comportato così ma le cronache e altre eh fonti così mi dicono si è andata in questa maniera eh credo che lo abbia fatto anche magari per evitarsi ehm spiacevoli confronti eh diciamo così perché sai trovi sempre magari il 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 tifoso che ti ha posto e fa in qualche maniera tanto più se c'è di mezzo la Juventus e questo vale un po' per tutti i trasferimenti da qualunque squadra alla Juventus naturalmente perché lo ricordo sempre a presto parenti la Juve è una cosa unica in tutte le sue sfaccettature positive e negative che siano da da tutti i punti di vista la Siguario e la Juve è una cosa unica per il calcio italiano è unica ok ehm e quindi è normale che eh normale sì è comprensibile che abbia voluto appunto sottrarsi al rischio non è detta al rischio di dover avere dei confronti ehm magari scomodi ecco scomodi chiamiamoli così ehm è chiaro che molto si ricamerà eh nei prossimi giorni su questo su questo comportamento già ci si sta ricamando ma è normale cioè voglio dire eh non è necessariamente un fare il 2 più 2 uguale 4 cioè non vuol dire sì Zagnolo va da Juventus è 2 più 2 uguale 3 e mezzo nel senso c'è una trattativa ma questa trattativa è il punto eh è il punto diciamo così forte e debole al tempo stesso perché il punto forte e mediaticamente debole in questo momento perché la Juventus è un po' lontana dal discorso dalla valutazione di Zagnolo data dalla Roma sarebbe stata anche un po' alzata dai 50 ai 60 milioni questo ve l'ho già detto e qui la Juve deve cercare di capire bene di muoversi e quindi credo che nell'incontro che ci sarà a quanto pare con eh vigorelli anzi con vigorelli eh procuratore di Zagnolo a quanto pare ehm domani mercoledì o giovedì eh qualche cosa di più salterà fuori ma ragazzi sono situazioni ehm poi magari mi sbaglierò che si capisce che possono andare un po' per le lunghe cioè non è non è una trattativa semplice non è una questione semplice da risolvere cioè eh c'è un ragazzo giovane messo di fronte ad una realtà eh importante c'è una società come la Roma che giustamente vuole monetizzare c'è una società più una società che l'annatore che con l'arrivo di Zagnolo eh intende eh darsi eh una programmazione perché qui stiamo parlando di un ragazzo molto giovane eh rischiando o scommettendo in un certo qual modo su continuità di integrità fisica lo dico sempre è la prima cosa che io mi permetto di augurare a Zagnolo a prescindere dai colori che vestirà a prescindere perché comunque ne ha bisogno anche la nazionale di un giocatore del genere e quindi insomma la situazione è abbastanza intricata complicata mi avete chiesto di Kostic eh su Kostic effettivamente non arrivano più eh molte inizioni allora l'accordo col giocatore c'è ragazzi l'accordo col giocatore c'è ma da tempo anzi Kostic è lì che eh direi che sta ehm puntando i piedi per lasciare eh l'entra di Francoforte ma c'è una società come l'entra di Francoforte che teteschi loro sono teteschi e non vogliono discostarsi da certe valutazioni eh loro vogliono sui diciotto venti la Juve arriva a dodici tredici al massimo da quello che mi risulta è un affare che è svincolato da tutto il resto è svincolato da Di Maria è svincolato da Zagnolo eccetera cioè la Juve sta puntando su più esterni di prospettiva ecco e quindi l'affare Kostic è lì poi non è detta che se è lì vada a finire là cioè che se è lì a eh Francoforte vada a finire là a Torino ecco però c'è anche questo tipo di eh di movimento quindi non è una Juve che sta ferma è una Juve che direi che è abbastanza attiva fino a questo momento sul mercato è chiaro che poi dopo un tifoso vuole sentirsi annunciare i giocatori vuole essere sicuro che arrivino ma tutti lo sono tutti sono così naturalmente poi vedi magari non so l'Inter che si sta già allenando Lukaku è arrivato cioè è normale vai a confrontarti con gli altri però io credo che come sempre i conti vanno fatti alla fine così come i conti vanno fatti alla fine di una stagione i conti vanno fatti alla fine anche di un mercato che ufficialmente è appena iniziato e che finirà il 31 di agosto addirittura al primo di settembre adesso non ricordo bene quindi con questo non solo che devi abbiate una fiducia cieca vedrete sarà una Juve fantastica no sarà una Juve diversa sarà una Juve che almeno sulla carta avrà un tasso qualitativo maggiore di quello che c'è ora mi sfuggiva un altro dato la Roma per esempio pare che abbia chiesto Zaccaria uno dei più gettonati tra l'altro ieri al preraduno a autografi selfie eccetera e Allegri avrebbe detto di no alla cessione di Zaccaria spero che dica di no anche a quella di McKennie secondo me sono due giocatori importanti e spero che rimangano questa mattina si è presentato alle visite mediche anche Fagioli e qua non si sa francamente nulla nel senso che rinnoverà deve solo rientrare Andrea Danico da Toronto è stato là in questi giorni per crescito e soprattutto per Insigne e quindi appena torna Fagioli rinnoverà il contratto questa mattina è passato dal J Medical e bisogna capire se passerà anche dalla continassa o se sarà però un transito o se andrà via continuo a pensare anzi comincio a pensare che tra Rovella, Miretti e Fagioli mentre prima dicevo due su tre restano e uno va via comincio a pensare che uno su tre resti e due vadano via vedremo vedremo c'è tempo c'è tempo ma l'impostazione a settimana anche importante per Cambiaso e potremmo rappresentarsi di Cambiaso attenzione anche Cambiaso attenzione anche Cambiaso iscrivetevi al canale ci vediamo domani spero di essere stato abbastanza chiaro e basta così iscrivetevi siete sempre in tanti però vi ringrazio ciao ciao ciao